Non mi aspettavo tanta tempestività e quindi ne sono stato lieto, perché fa chiarezza. Poi la magistratura farà il suo corso, è lungi da me dare giudizi, però fa chiarezza. Lo stato di squilibrio economico e finanziario era evidente, perché c'è stato un decreto. Quindi questo era un atto conseguente, ma il mio timore è che arrivasse dopo X giorni. Invece è arrivato. Questo fa chiarezza e distingue il passato dal presente. La vecchia Banca Etruria aveva commesso degli errori che non sta a me giudicare. La nuova Banca Etruria dà un taglio netto rispetto a quello del passato e può occuparsi di nuovo del territorio che rappresenta e che la rappresenta. All'indomani della dichiarazione di insolvenza per la vecchia popolare da parte del Tribunale di Arezzo è l'amministratore delegato della nuova Banca, Roberto Bertola, che ribadisce il suo pensiero. Un atto che serve a fare chiarezza, ha detto, sullo squilibrio economico. La dichiarazione a margine della convenzione tra Banca Etruria e Confartigianato per due nuovi prodotti dedicati alle piccole e medie imprese. Per gli imprenditori significa innanzitutto consolidare nuove opportunità. Quindi continuare una collaborazione che c'è stata nel passato, a maggior ragione ci deve essere oggi, con un istituto rinnovato e che evidentemente dà la disponibilità ad operare in un territorio in maniera costruttiva. Questa è un'opportunità che noi dobbiamo cogliere ma che credo sia veramente per l'intero territorio un'opportunità veramente unica e importante.